Semina, raccoglie. E questo è il problema. Chi semina, raccoglie. Chi non semina non ha niente. Sai nonna, stamattina ho fatto vedere il tuo passeggino, non passeggino, carrellino con sopra stesi. Con sopra che cosa? Con sopra stesi i vestiti ad asciugare. Che? Che c'erano sopra i vestiti stesi per asciugare. C'è il carrellino. È una signora che fa, brava Luigina, anch'io ho comprato la cicletta apposta per stendere. Lo faccio uguale a te. Non mi ricordo il nome perché... L'ha scritto fiera. Brava Luigina, anch'io la cicletta la uso proprio per quello. Però poi ha detto che la tua è più intelligente perché tu il carrellino lo puoi spostare. E lei la cicletta invece no. Quindi comprerà anche lei il carrellino. Non per camminare, ma per stendere. Oh, caro madonna. Ma tu fai vedere tutto? Mi dicono che sono balorda. Chi sei balorda? Che sono balorda. Chi sei balorda? Ma Luigina cosa dici? Ha detto che è stata un'idea geniale. Anzi... Non vorrei dire... Lo compra anche lei. Ma io credo che l'azienda che produce i carrellini adesso cambierà nome e scriverà Carrellini Appendipanni Mobili. E così con lo stesso prezzo compri due cose. Speriamoci diano magari un bonus, un premio per l'idea. Signori dei carrellini, scriveteci. Speriamoci di pubblicare.